Siamo a Rimini, campionati della cucina italiana e mi trovo in questo momento circondata dagli chef dell'equip di Alta Cucina della Toscana. Io sono particolarmente contenta da Toscana di essere insieme a queste persone perché sono veramente talentuosi e in questi mesi si sono preparati per arrivare a questi campionati così importanti. Chiedo velocemente, siccome sono tanti, il loro nome e il loro ruolo, partendo da Fabio Bianconi, team manager della squadra. Chioma Franceschi, main course e vice capitano. Jonathan Fedeli, commidi pasticceria. Edoardo Tilli, starter. Daniele Zingoni, main course. Vincenzo Volpe, starter. Emanuele Callari, helper. Michele Cocola, coordinatore. Benissimo, allora tante persone, tanti ruoli per una realtà coesa. Io ho seguito il vostro lavoro, vi vedo ovviamente in questo momento stanchi ma anche scarichi finalmente della tensione perché giustamente è stata una giornata impegnativa. Iniziata stamattina a che ora? Stamattina alle 5 però non è mai finita da ieri quindi siamo addirittura da quasi 48 ore. Mamma mia, quindi fate tanto a stare in piedi. Michele mi rivolgo a te, quando hai iniziato questo percorso con questo gruppo di persone che insomma stanno lavorando insieme in maniera anche molto intensa? Sono tanti 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 mesi che si sta lavorando. Questi ragazzi sono fantastici perché fanno chilometri e chilometri. Scusate ma sono arrivato al limite, chilometri e chilometri la notte per fare allenamenti all'interno delle cucine e vi assicuro che sono stati veramente eccezionali, guardate. Credetemi, ci hanno creduto tanto e io so che poi festeggeremo tutti insieme. Bene, allora noi chiaramente non mettiamo ancora avanti nulla perché non sappiamo, i giudici in questo momento stanno facendo i loro controlli, le loro scelte anche perché sappiamo benissimo che poi ci saranno comunque dei vincitori, dei vinti. Noi ovviamente non diciamo nulla ma invece una curiosità che vorrei così chiedervi è da dove venite? Almeno capiamo anche da quali parti della Toscana vengono i membri dell'equipe di Alta Cucina. Allora io vengo dalle Hawaii, sono hawaiano di nascita. Si capisce che Fabio Bianconi ovviamente è un personaggio particolarmente giocoso. Io vengo da Firenze, Firenze. Monzumano Terme, provincia di Pistoia. Campo Tizzoro, montagna Pistoiesi. Pontassieve. Vinci, Monzumano Terme anch'io. Arezzo, Follonica, Grosseto. Bellissimo, quindi insomma una larga parte della Toscana è rappresentata veramente qua. Vedo che manca Mariano Di Leo, giusto? Che in questo momento probabilmente abbiamo finito adesso quindi starà probabilmente mettendo a posto ma è colui che ha poi diciamo dato il suo contributo per il dessert. Quindi la parte dolce è conclusiva, l'hanno portato via. Non ti chiedo dove perché altrimenti chissà. Quindi vi ringrazio tutti. Chiaramente il mio augurio è quello che le cose vadano il meglio possibile. Incrocio le dita e ci rivedremo più tardi. Grazie. Per Food & Wine TV, grazie a Frappi e a Angelo Bianconi. Felice. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.